Buona giornata agli studenti, quelli del liceo e quelli della università, buona giornata alle autorità accademiche e istituzionali nel senso più lato del termine passato e prossimo venturo, notazione quanto mai d'attualità in queste ore. Generazione Proteo, forse è per questo, perché Proteo è un cambiaforma, che a questo tavolo a moderare e introdurre questo incontro hanno voluto un cambiaforma, cioè uno che ha la doppia veste, che sta sulla formazione e sulla informazione perché è un giornalista al tempo stesso, è un docente, uno che dovrebbe andare alla radice e comunque è obbligato a stare in superficie. Insomma fondamentalmente uno scisso con la personalità irrisolta, tacronaca e storia, di questo si tratta facendo le presentazioni. Generazione Proteo, ieri mentre sfogliavo questo volume mio figlio sentiva l'ultima canzone di Fedes e Jay Axe italiana appena uscita che sarà il refrain di questa estate che sta per cominciare. A me ha portato indietro nel tempo, perché per me più che italiana è l'italiano e mi ha portato indietro nel 1983, se possiamo mandare la slide, di 35 anni, sono due Italie. In quella estate del 1983 Vincenzo Scotti concludeva uno storico accordo da ministro del lavoro tra governo e sindacati. Due anni dopo, 85, ci sarebbe stato il referendum sulla scala mobile. Toto Cotugno cantava, lasciateci cantare, eravamo campioni del mondo dall'anno prima, 1982. Era una generazione che si lasciava dietro la crisi economica, che si lasciava dietro il terrorismo. L'Unione Sovietica con l'Afghanistan aveva raggiunto il massimo dell'espansione e cominciava ad arretrare sotto i colpi del Papa Polacco e della rivolta di Danzica Il muro di Berlino scricchiolava. Ci sentivamo vincitori. Come? Lasciatemi cantare che ne sono fiero. Come non fare il confronto e il paragone perché gli storici è guai se l'università non lo fa e non considera come questi, come testi su cui chi verrà dopo di noi farà la storia e cercherà di comprendere, di capire come eravamo. Gli storici guarderanno invece quest'altro testo della primavera-estate dell'anno del Signore 2018 che dice anche se fuori piove, lì lasciateci cantare perché è tornato il sole, anche se fuori piove noi cantiamo lo stesso e la musica suona, cantano Fedes e Jay Axe, dimostrando di essere molto più veraci e molto più tenaci di quanto siamo noi. E quindi questa è una generazione che noi dobbiamo studiare, la vostra, lo dico ai giovani, con grande rispetto perché era facile cantare quando hai vinto, è più difficile, dice la canzone, non io, dicono Fedes e Jay Axe, perché noi abbiamo perso e siamo fuori dal mondiale. Ma con una lucidità impressionante, in un gioco di parole uno o due, sembra che il problema oggi a sentire tutte le televisioni e a leggere i giornali sia quello di stare o non stare nell'Europa, loro ci dicono guardate che intanto stiamo fuori dal mondo, non solo dal mondiale e ci preoccupiamo se stiamo o no nell'Europa. Con questa capacità di sintesi e lucidità che la vostra generazione ha e che a noi può insegnare molto. Ecco perché la università ragazzi oggi vi studia, ecco perché esce questo libro bianco che viene consegnato alle autorità e che è il frutto di una intuizione geniale, Nicola Ferrigni, che la Link ha voluto assecondare in questo sforzo di fare connessione, di fare connessione tra la vita e la università. Atteso che uno dei grandi problemi di questa Italia, chiunque vada al Ministero di Viale Trastevere, e si saprà tra qualche ora, massimo qualche giorno, uno dei grandi problemi di questa Italia è l'ovviato, la frattura, il link che manca tra la università e la vita. Benvenuti, visto che l'ho evocato alla Link, benvenuto al suo fondatore e ben trovato Vincenzo Scotti. Non so se vorrà partire dall'accordo dell'83 o dalla canzone del 2018. Consentitemi innanzitutto di dare il benvenuto a tante persone che forse hanno visto per la prima volta il campus e tutti meravigliati come il nostro Monsignore e dire grazie, lasciatemi ai giovani, agli studenti che sono gli autori di questa ricerca. Qui lo dico a un grande esperto di statistiche nel nostro paese. Voglio dire grazie ai giovani per l'impegno che hanno posto in questo lavoro con l'aiuto e la guida di Nicola e di tutti i responsabili degli istituti che partecipano al progetto e che hanno accolto da anni la sfida. Quale sfida? La scuola, l'università, la società italiana ha bisogno di capire prima di parlare, di capire i giovani. In genere oggi noi assistiamo quotidianamente a scoperte della stampa e della televisione. Dice, ma come mai come in questo momento quelle che vengono presentate come rivoluzioni sono nient'altro che rivelazioni di qualcosa che già esiste? Dice, come è cambiato? E qui è una rivoluzione. Se vivi dentro la realtà non è una rivoluzione, è una rivelazione di un processo che viene da lontano e che ha trasformato e sta trasformando la nostra società. E noi facciamo difficoltà ad adattarci a loro. Quando, Nicola, siamo nati e qui io ringrazio la nostra società di gestione e la sua presidente per aver aiutato questo cammino, ci siamo chiesti, noi siamo una nuova università. Vogliamo domandarci prima di tutto, cosa pensano i giovani che noi vogliamo formare? Quali sono, qual è la loro realtà? Ma cosa facciamo? Nicola disse, facciamo una indagine. La ricerca viene fatta coinvolgendo nella fase di elaborazione, di preparazione, gli studenti delle scuole e discutendo con loro i questionarii, poi mettendo nelle mani dei giovani i questionarii, poi elaborando i questionarii e chiamando i giovani a discutere intorno alle risposte che essi hanno dato alle domande. E quindi quello che hanno raccontato della condizioni giovanile. Non una ricerca di esperti sulla testa, ma qui sono i giovani che raccontano se stessi. e interpretano quello che hanno detto singolarmente e poi messo insieme nel rapporto finale. Noi lo offriamo alla scuola italiana e all'università italiana perché la cosa più importante per la scuola italiana e per l'università italiana è capire più a fondo i giovani. Molto spesso tutta la discussione sulla scuola nel nostro paese si riduce agli ordinamenti e al personale. i giovani e gli studenti sono fuori dalle preoccupazioni anche del legislatore e del riformatore nel nostro paese nel recente passato. Eppure la scuola è fatta per i giovani. Se la ricchezza straordinaria che viene messo nelle mani della scuola e dell'università i giovani del tempo presente vanno ascoltati con umiltà, con attenzione, con discrezione. e la scuola e l'università hanno bisogno di questo bagno di umiltà per poter trasmettere il sapere e abituare i giovani a utilizzare il sapere con sguardo critico, libero. E' finito il mondo, quello che esce, Piero, oggi rispetto agli anni che tu hai citato è una cosa fondamentale la differenza. Noi vivevamo dentro delle camicie di nesse delle ideologie e guardavamo la realtà attraverso quelle camicie di nesso oggi i giovani hanno la fortuna di non avere camicie di nesso vanno educati al sapere critico non alla lettura delle ideologie a calarsi dentro e quello che è bellissimo e ho chiuso di questo lavoro è che viene fuori un'immagine fresca anche diversa da quella che viene normalmente raccontata che è quella che noi stesso docenti e non percepiamo io mi auguro che il nostro paese apra gli occhi ai giovani e ascolti di metta solo in guardia sulla necessità di un sapere critico non di lasciarsi indottrinare ma poi siano liberi abbiano la forza di non mai fermarsi di fronte alle difficoltà di sapere che ci possono dominare io ti dico e chiudo la bellezza di questo lavoro che è stato fatto sta qui sta tutto racchiuso qui la link gli istituti scolastici che hanno collaborato in questo i giovani consegnano oggi questo testo come contributo ad una riflessione profonda sulla necessità di governo della scuola e dell'università nel nostro paese non pensando a riforme calate dall'alto ma chiedendo ai protagonisti della scuola di assumere nelle non romani i giovani e i docenti e gli apparati delle scuole e delle università abbiano autonomia e indipendenza non siano burocrati sotto la direzione di poteri ministeriali che servono a costringere e non a risaltare le potenzialità che sono dentro questa ricerca e che emergono da questa ricerca questo è il contributo che noi diamo qualcuno così scherzando in questi giorni parlando della nostra università la nostra università è fucina di libertà di autonomia di creatività e questa la difenderemo con forza perché è un patrimonio che appartiene ai nostri giovani appartiene ai nostri studenti appartiene al nostro paese grazie grazie a Enzo Scotti che è andato subito al punto la differenza tra il passato e il futuro è che oggi siamo fuori dagli schemi questo non vuol dire però che il potere non ci sia mi ha colpito molto l'assonanza tra una cosa che mi disse il cardinale Bergoglio quando lo moderai in una conferenza a Buenos Aires nel 2003 dieci anni prima che si affacciasse dalla loggia delle benedizioni da Papa e alla fine della conferenza mi fece sa cosa distinguerà il nuovo secolo che il potere sarà anonimo e sconosciuto fluido e poi oggi ieri vedendo il testo di Fedez e Jayar dice il potere è come il wifi è rarefatto ma c'è dappertutto fortuna che ogni tanto fa crack e non c'è campo quelle sono le nostre zone e aree di fuga e di libertà Nicola Ferrigni comincia proprio così il riassunto dei cinque anni di indagini dell'osservatorio generazione proteo mentre fino all'accavallamento allo scavallo di secolo e di millennio noi possiamo dire per gli anni cinquanta che è la generazione post bellica gli schemi è per gli anni sessanta che sono i baby boomers è per gli anni settanta che è il sessantotte per gli anni ottanta novanta che è il riflusso oggi i giovani sono e questo è il risultato del primo rapporto del 2013 sto facendo velocissimamente a volo d'aquila riassunto sono inafferrabili è un po' come il calcio se a me è cresciuto quando l'Inter e il Milan vincevano le coppe dei campioni con gli schemi rigidi del contropiede mi avessero detto che un giorno il mantra di ogni mister sarebbe stato non dare punti di riferimento vedete che analogia c'è tra il mantra che oggi si predica parlo un linguaggio che è amato da voi giovani oggi lo schema principe è quello che nega gli schemi e che non ti dà punti di riferimento in campo ed ecco perché lui definisce i giovani di oggi inafferrabili nel 2014 fa un passo in più e dall'aggettivo inafferrabili passa al binomio e dice che siete ciascuno di voi dei solisti inafferrabili dei solisti tanto inafferrabili che qualche volta finite fuori dalla classe non che il professore vi mette fuori ma che questa società tende a mettervi fuori e veniamo al 2015 al terzo rapporto perché la vita è diventata una corsa a ostacoli così la avvertite questo è il risultato dello studio delle vostre testimonianze non è soltanto una corsa a ostacoli all'università con la curva gaussiana che sempre più si impone negli esami e nella vita nella ricerca di un lavoro che non c'è è diventata anche nei rapporti nelle relazioni fra voi nelle relazioni affettive è diventata una corsa a ostacoli è un mondo dove la sticella si alza sempre di più al punto si alza la sticella che vi sentite acrobati e sotto avete la percezione che non ci sia la rete che la società si sia fatta feroce e che la vita questo è quello che molti di voi pensano possa alla fine risultare un fallimento in questo modo guarda i rapporti di lavoro e affettivi la vostra generazione e quindi sentite l'esigenza mantenendo la premessa di essere veloce e sintetico sono già arrivata al quinto rapporto del 2017 avvertite l'esigenza di un ritorno al futuro qui ci vorrebbe Carl Jaspers per spiegarlo Carl Jaspers dice che siamo in un'epoca assiale epoca assiale non è quella che nega i valori i valori ci sono e voi avvertite l'esigenza di valori e di cultura solo che si riposizionano è questo che noi grandi adulti vecchi spesso non capiamo perché voi i valori ce li avete ma li riposizionate questo accade quando cambia l'asse del mondo e della storia noi pensiamo che la globalizzazione sia un fatto io insegno geopolitica noi pensiamo che la globalizzazione sia un fatto esterno la globalizzazione è nelle teste e questo riposizionamento è antropologico prima di essere geografico e geopolitico per cui dando la parola a Nicola Ferrigni che se l'ha cercata perché è un cinefilo e ama i film lui ha avuto la sfortuna di scrivere questa cosa qualche mese fa quando non era uscito ancora solo An Solo perché è un ritorno al futuro capire da dove nasce quel sapore acidulo di ketchup Harrison Ford è l'acidità fatta a persone da dove nasce quel sapore che fa parlare di generazione ketchup però siccome quando ha scritto questa cosa An Solo è uscito ieri è uscito oggi non era ancora uscito forse lui che corre sempre cancinofilo di prima fila non l'ha visto ancora lui cita ritorno al futuro però ritorno al futuro finisce in modo non meno problematico perché dice dov'è la strada del futuro il futuro sarà senza strade beh questo è il modo peggiore di introdurti sei anni fa quando l'In Campus University è venuto a costituire questo osservatorio permanente sui giovani tutti noi avevamo un'ambizione ovvero ovvero quella di creare questo ponte tra scuola e università convinti come eravamo e come lo siamo tuttora che la reale conoscenza dell'universo giovanile non può non passare da questo dialogo imprescindibile tra le due agenzie formative per eccellenza e a sei anni di distanza dalla nascita dell'osservatorio generazione proprio i risultati mostrano che questo ponte ha preso forma e come osservatorio abbiamo messo in relazione e in connessione reciproca la scuola e l'università e così abbiamo con questo traguardo trasformato i due pilastri che tradizionalmente sono un po' isolati nel loro percorso di crescita umana e percorso di crescita culturale anche dei giovani trasformati in un processo in un continuum conoscitivo e formativo ma in questi anni i giovani ci hanno chiesto di fare qualcosa di più quel qualcosa perfettamente che una studentessa Nicole che è qui presente che interverrà anche dopo ha perfettamente sintetizzato nella domanda che ci ha posto un anno fa la precedente edizione di Procre Brains quando ci ha detto testualmente ma se noi impariamo a chiedere le cose voi istituzioni voi adulti voi università siete poi disponibili ad ascoltarci parole che hanno fatto vibrare quelle corde più profonde nel nostro senso di responsabilità nei confronti dei giovani che si apprestano a uscire dalle aule della scuola per fare ingresso nel mondo universitario che rispetto di quello che le statistiche ci dicono di un calo oggettivo del numero di matricolati comunque dalle nostre ricerche emerge che la scelta privilegiata al termine percorso scolastico è comunque l'università e quindi parole che hanno rafforzato quella nostra convinzione già radicata nella progettualità insita e nascente del nostro osservatorio di tradurre il quinquennio di attività in questo libro bianco che desse proprio solidità tangibilità che mettesse nero su bianco le idee le proposte l'energia dei giovani ed è quindi da qui che questo libro bianco che oggi consegniamo simbolicamente alle istituzioni qui qui presenti che nelle prossime ore porteremo in primis al ministro dell'istruzione e a tutti gli esponenti del futuro esecutivo perché nostra ferma convenzione che i giovani non possano non debbano rappresentare un capitolo a sé stante dell'azione governativa ma la cornice all'interno della quale ogni politica pubblica deve nascere e deve svilupparsi il libro bianco raccoglie al proprio interno cinque anni di ricerche condotte dal nostro servatore sui giovani o meglio come è stato detto dal professor Scott all'inizio con i giovani perché in quello che a noi piace definire e rimarcare il metodo proteo che abbiamo voluto creare di cui i giovani sono i protagonisti attivi di tutte le fasi della ricerca sono loro infatti che nei tanti decine e centinaia di focus group che precedono la progettazione dello strumento di indagine del questionario suggeriscono i temi le argomenti suggeriscono le novità che poi il rigore scientifico e metodologico dei ricercatori della Link Campus University traduce poi in domande in item a cui gli stessi giovani saranno poi chiamati a esprimersi dunque chi sono i giovani della generazione proteo chi sono i 70.000 ragazzi intervistati in questi cinque anni a cui diventano che diventano 90.000 se consideriamo la sesta edizione attuale del rapporto le nostre ricerche ci dicono che sono giovani mutevoli multiformi inafferrabili e non a caso appunto gli inafferrabili l'appellativo dato nel 2012 ai protagonisti della prima edizione della ricerca giovani che un anno più tardi abbiamo definito solisti fuori classe espressione che riassume tanto la straordinarietà l'eccellenza di cui essi sono espressione quanto la loro tendenza ad essere fuori dal coro talentuosi acrobati come emerge dal quarto rapporto di ricerca impegnata in questa quotidiana corsa ostacoli sulle diverse piste della vita e che come suggerisce poi il quinto rapporto di ricerca trovano nella cultura l'antidoto a una società che sembra aver smarrito quel senso più vero e autentico del concetto di pubblico e lo smarrimento del senso di pubblico rappresenta questo anello di congiunzione tra i cinque anni di attività dell'osservatorio e il sesto rapporto di ricerca che ci ha visto come dicevo intervistare circa 20.000 studenti in questi primi tre mesi del 2018 mesi segnati senza ombra di dubbio da momenti cruciali per il futuro del nostro del nostro paese in questa nostra consuetudine tra l'altro di trovare ogni anno un appellativo che identificasse il tratto dominante della generazione intervistata quest'anno i risultati suggeriscono un gioco di parole e quindi abbiamo definito la generazione dei creativi ovvero i giovani che stanno ridefinendo ciò in cui credono la realtà in cui crescono i diversi mondi che quotidianamente creano tutto questo all'interno di una cornice temporale declinata al presente continuo e in tale cornice la creatività di cui i giovani sono portatori può essere spiegata attraverso le dieci keyword che sono le proprio le cinque precedenti edizioni della ricerca a consegnarci partecipazione e impegno talento e speranze ostacoli e reazioni certezze e paure tempo e relazioni la parola partecipazione rimanda in primis al tema della politica rispetto alla quale la nostra ricerca in parte sfata alcuni luoghi comuni sovente infatti si sente dire che i giovani sono distanti disinteressati disaffezionati e scarsamente fiduciosi verso la politica forse termini abusati anche nel nostro parlare quotidiano ma che non aiutano a decifare la profondità del processo in atto la disaffezione per sua stessa definizione è infatti una emozione o meglio è una reazione emotiva a un'eventuale affezione che è venuta meno ma come parliamo di giovani di 18 19 20 anni davvero possiamo parlare di disaffezione come se si fa a parlare di disaffezione quando presumibilmente a monte non c'è stato il tempo materiale per una reale affezione di qui dunque a nostro avviso un equivoco anche interpretativo che sovente porta a confondere quel fisiologicamente disinteresse che un giovane può provare nei confronti di un dibattito politico di cui ancora forse non percepisce la centralità del proprio vissuto quotidiano con quella disaffezione che però invece patologicamente caratterizza la generazione adulta e a conferma di ciò dalla ricerca emerge che sia dichiararsi disinteressato nei confronti della politica il complessivo 39% tra l'altro una percentuale in crescita rispetto agli altri anni i giovani mostrano un profondo rispetto nei confronti del voto inteso come strumento di democrazia e a fronte dunque di una società adulta la cui disaffezione nei confronti della politica si è palesata nelle inconsuete per il nostro paese percentuale di astensionismo c'è invece un 80% dei giovani intervistati maggiorenni che ha votato alle ultime elezioni e questo dalla ricerca emerge non in virtù di una rappresentanza partitica che evidentemente anche essi sentono in parte bensì perché sostengono che il voto rappresenti un dovere civico strettamente legata a partecipazione è la parola impegno un impegno che i giovani chiedono in primis alle istituzioni che percepiscono sì come quel soggetto che deve mettere ordine e stabilità nonché dettare le regole ma anche come chi deve garantire l'uguaglianza e ancora di più come il custode di valori più profondi che contraddistinguono la società e l'impegno non rappresenta tuttavia un qualcosa che i giovani si limitano a chiedere o che si aspettano soltanto dagli altri quanto piuttosto una assunzione di responsabilità da cui essi non si sottraggono e a conferma di ciò il 38% degli intervistati dichiara di svolgere attività di volontariato cui si aggiunge un 30% che vorrebbe farlo e questo perché la solidarietà viene percepita come un'occasione per fare qualcosa di concreto per la società per provare a cambiare il mondo che li circonda oppure per fare anche un'esperienza di vita una terza keyword particolarmente efficace per descrivere la generazione dei creativi è il talento di cui si parla soprattutto con riferimento al lavoro che rappresenta il principale diritto che i giovani rivendicano un lavoro che la generazione dei creativi in linea con quanto emerso anche con le precedenti edizioni della ricerca sa di non potersi limitare a cercare ma al contrario bisogna contribuire a creare investendo in qualcosa che appassiona puntando sulla originalità oppure innovando un lavoro tradizionale un lavoro che in primis deve consentire di realizzare i propri sogni e gratificare soltanto per il 10% come sinonimo di elevata retribuzione il talento a cui pensano i giovani non è tuttavia una dimensione estetica affine a se stessa bensì un qualcosa che presenta al proprio interno una marcata componente etica di cui dunque l'idea del talento come strumento attraverso cui dare forma e sostanza alle speranze e questa è la quarta keyword del rapporto che animano le giovani generazioni in cima l'aquilista svetta l'idea di una società fatta di persone competenti responsabili e affidabili e in linea del tutto analoga sono proprio competenze e onestà che i giovani sperano contraddistinguono la nuova classe politica nel descrivere il loro mondo ideale i giovani sono tuttavia costretti a fare quotidianamente i conti con una serie di ostacoli la quinta keyword che prendono forma in primis all'interno della scuola una scuola che essi considerano non al passo con i tempi principalmente a causa dicono della rigidità dei programmi ministeriali espressione di sovrastrutture evidentemente che essi percepiscono come obsolete una rigidità che in particolare impedisce di parlare di quei temi che invece loro vorrebbero si parlassi a scuola in cima alla pulisa svettano attualità politica e cultura ma di ostacoli si parla anche a proposito della rete in particolare con riferimento al ben noto tema delle fake news la cui diffusione sostengono i giovani intervistati è dovuta principalmente alla superficialità con cui le persone condividono i contenuti in rete e alla esasperata ricerca dei like che caratterizza i social agli ostacoli si può e si deve tuttavia reagire e non a caso reazione è la nostra sesta keyword una reazione che prende forma per esempio nell'adesione alla pena di morte sostenuta da un intervistato su tre in una logica di contrappassi tale per cui è giusto che chi commette un grave crimine paghi con la propria vita soprattutto quando le vittime sono soggetti particolarmente deboli come i bambini di reazioni si può parlare altresì a proposito del bullismo del cyberbullismo quest'ultimo percepito particolarmente come una forma di gioco in quella logica deviata di talent show emersa già in nostre precedenti edizioni della ricerca solo una vittima su tre ammette di aver reagito parlandone con i genitori o con gli insegnanti e questo perché vi è la convinzione che un loro intervento avrebbe addirittura peggiorato la situazione complice forse quella scarsa digital media literacy che contraddistingue molto spesso gli adulti settima keyword certezze termine che riassume la posizione dei giovani rispetto a due temi all'apparenza lontani seppur legati da una sottile linea rossa ovvero famiglia e giustizia se una buona famiglia infatti prima di tutto quella che sa insegnare valori una società può dirsi giusta solo quando essa garantisce l'uguaglianza tra le persone la tutela dei diritti e il rispetto della legge opposte rispetto alle certezze ci sono invece le paure nella cui hit parade svetta la criminalità percepita come minaccia tanto quanto il terrorismo e tanto quanto le problematiche ambientali la penultima keyword ossia relazioni ci fa entrare nella sfera più intima e privata anche dei giovani laddove prende forma quel complesso intreccio di rapporti che definiscono il loro essere al mondo da questo punto di vista è significativo che per circa il 70% la personalità di un giovane si definisce sulla base di ciò che si è quindi per le persone frequentate per il linguaggio utilizzato piuttosto che in ciò che si ha il vestirsi alla moda interessa meno l'auto guidata interessa ancora meno l'ultima keyword che ci consegna la nostra ricerca è il tempo particolarmente significativa perché introduce quel tratto caratterizzante di questa generazione menzionato in precedenza ovvero la difficoltà a coniugare la propria creatività all'interno di una dimensione temporale che spazia trappressato presente e futura conferma di ciò basti pensare che se l'80% si dichiara soddisfatto della propria vita attuale soltanto il 28% avendo a disposizione una ipotetica macchina del tempo resterebbe nel presente a fronte del 46% che tornerebbe nel passato mentre è ancora più bassa la percentuale e pare il 22% di chi vorrebbe proiettarsi al futuro concludo con un'ultima riflessione che ci riporta al titolo scelto per questo sesto rapporto di ricerca la fotografia che emerge dalla ricerca è infatti quella di una generazione la cui creatività sta producendo qualcosa che va ben oltre quel fisiologico cambiamento che caratterizza indubbiamente un passaggio intergenerazionale in questo caso tuttavia ci sono due dati a cui a mio avviso non si può non tener conto in primo luogo il fatto che di questa rivoluzione gli adulti e anche le stesse istituzioni sono sempre più spettatori passivi quando non finanche addirittura anche a volte freni al processo in corso e questo principalmente perché si è fuori sync rispetto al ritmo che contraddistingue la quotidianità dei giovani di qui dunque l'istantanea di una società follower rispetto a una generazione di giovani influencer tuttavia e qui vengo alla seconda considerazione che ci riporta a quanto emerso nel quarto rapporto la capacità dei giovani di essere influencer tende oggi a rimanere circoscritta in un alvio che sovente finisce per essere strettamente privato complice anche quella crisi del concetto di pubblico che oggi investe la società nel suo complesso va da sé che finché la nostra società non saprà riapproparsi del significato più vero più autentico del concetto di pubblico anche la creatività di cui i giovani sono espressione finisce per restare una emozione privata e non una reazione pubblica grazie grazie a Nicola Ferrigni per avere saputo coniugare la scienza e la passione che è un binomio molto difficile da mandare insieme ne sa qualcosa chi con lui ha lavorato sull'altro versante quello delle scuole superiori a questo libro bianco che è la professoressa Monica Nanetti che è la presidente del comitato scientifico lei è la dirigente di uno storico istituto professionale di Roma famocissimo tecnico il Litis Fermi che stamattina io ho scioccato perché venendo lei dalla scuola superiore va con l'orario della campanella arrivi all'università e c'è il quarto d'ora accademico alle 11 e un quarto mi ha chiesto com'è che non cominciassimo io gli ho risposto che era una conferenza stampa e c'era la mezz'ora giornalistica perché ho evocato questa sfasatura temporale che dà la precisione diventa il quarto d'ora e poi diventa la mezz'ora giornalistica perché i due mesi che separano due mesi e mezzo massimo la maturità che i vostri ragazzi prenderanno tra poco a Litis Fermi e l'inizio delle lezioni universitarie i due mesi e mezzo si misurano ad anni luce ai ragazzi sembrano enormi è come un abisso dove non c'è un ponte ma c'è una passerella e se scivoli e fai sbagliata la scelta sono tanti i ragazzi che durante l'estate ancora non hanno scelto l'università e si giocano la vita in quella scelta se prendono la strada sbagliata l'osservatorio proteo il libro bianco il vostro sforzo è quello di cercare di estendere o di rendere più solida questa passerella avete io credo che nel frattempo dobbiamo salutare due parlamentari che già si vuole la fiducia stamattina appunto mi sembra sarebbe una notizia sarebbe da dare ai colleghi auguri al senatore alla deputata che ci lasciano ci lasciano nel modo di dire che la legislatura è appena all'inizio non sappiamo se ci lascerà anzi tempo o no ma per adesso la legislatura ci sta e questa passerella che vacilla e che è sempre più stretta si sta come allargarla voi siete partite in 23 istituti superiori nel 2013 oggi nel rapporto del 2017 87 istituti superiori si è allargata geograficamente a tutta Italia prima erano soltanto la Campania e il Lazio io mi sono andato a fare i conti 23 più 87 fa 110 visto che siamo all'università vediamo se lei riesce a aggiungere la lode se no chiedo ai miei studenti dell'istituto tecnico di aiutarmi forse con le apparecchiature tecnologiche sono più bravi di me innanzitutto grazie dell'invito oggi è una giornata importante è una giornata anche felice possiamo dirlo possiamo un po' anche autocelebrarci positivamente sono sei anni che questo cammino lo stiamo facendo insieme sono onorata chiaramente di parlare a nome delle scuole superiori dell'istruzione secondaria questo per me è un onore e vorrei salutare subito i ragazzi dei quattro istituti presenti che sono stati i primi quattro ad aderire al comitato tecnico scientifico che sono i ragazzi dell'istituto tecnico Fermi dell'istituto tecnico Pascal del liceo Caetani e dell'istituto Seraficum sono loro qui presenti oggi perché siamo stati i primi allora devo dire effettivamente era necessario creare un ponte se adesso forse va un po' meglio ma sei anni fa bisogna veramente dare onore e merito all'In Campus che è stata la prima a proporre alle scuole superiori un rapporto costante non episodico un dialogo continuo perché effettivamente mentre ci sono delle giornate di continuità di open day rispetto alla scelta che i ragazzi fanno tra la scuola media quella che si chiama scuola media e la scuola secondaria mancano completamente i contatti mancavano sei anni fa completamente i contatti tra le scuole superiori e l'università mentre il dialogo in questo senso essenziale è non un dialogo così vuoto ma un dialogo costruito proprio su domande e su continui confronti sia scientifici che anche di passione passione per i ragazzi dicevo che oggi è una giornata felice perché perché secondo me è bello è importante parlare dei giovani della scuola e dell'università lo si fa ancora troppo troppo poco lo si fa in genere lo viene fatto in genere da chi spesso non sta nelle scuole o non sta nell'università per cui si rischia di cadere in stereotipi vuoti lo si fa poco anche questi giorni purtroppo ne ho sentito parlare poco di scuole e di università devo dire e sono molto contenta che questo libro bianco come ha detto il professor Ferrigni verrà consegnato al prossimo ministro dell'istruzione perché scuola giovani università non possono essere un capitolo a parte ma devono essere la parte fondamentale della visione politica di questo paese questo secondo me bisogna partire dalla scuola e dall'università e dai componenti per ricostruire se vogliamo ricostruire l'Italia allora il nostro rapporto delle scuole superiori che man mano si sono aggiunte ringrazio naturalmente tutti i docenti e dirigenti scolastici che hanno permesso questo lavoro sia di audit prima nelle scuole poi anche di tutta questa ricerca questo dialogo si è veramente consolidato grazie anche diciamo la nostra pietra miliare è stato il DPR 275 quando parla di autonomia delle scuole dell'università in vista di una autonomia di ricerca sperimentazione e sviluppo questo è stato un momento concreto in cui abbiamo veramente fatto questo tipo di lavoro e in questi sei anni le scuole e l'atmosfera nelle scuole in parte è cambiata bisogna dire la verità non sempre in meglio purtroppo molte volte risultano anche sui giornali episodi difficili e soprattutto nelle scuole si respira un po' un'atmosfera di disincanto specialmente da parte degli operatori quindi credo che questo libro bianco sia una risposta concreta perché il professor Scott diceva bisogna capire ed è giusto ma io mi dicevo perché bisogna capire bisogna capire perché bisogna cambiare le forme di apprendimento bisogna cambiare come fare la didattica bisogna cambiare per evitare il fenomeno del burnout che nelle scuole si respira purtroppo questo anche disincanto di cui parlavo e bisogna capire perché i ragazzi hanno la necessità di riferimenti certi è in dubbio io lo vedo anche tra i miei studenti il rapporto che in questi anni ho consolidato con loro per loro è importante avere dei riferimenti certi da parte di noi adulti quindi è giusto bisogna capire questo libro bianco penso sia un'importante mattonella per capire non solo e bisogna anche ricordare questo lo dico che i risultati di questi ragazzi di questi questionari di questi ragazzi ci stupiscono ho visto qualche volto un po' stupito quando il professor Ferrigni faceva vedere i risultati ma non dobbiamo mai dimenticarci che i ragazzi ci scaldano sempre il cuore sono un'energia viva e pulsante delle scuole e anche dell'università grazie a tutti grazie adesso è arrivato il momento di sentirli quindi i ragazzi senza introduzione vi racconterò soltanto quello che succede nel pomeriggio la parte più interessante non è la conferenza stampa ma è Proto Brains Proto Brains sono dieci gruppi di lavoro ma gruppi di lavoro da un'idea passatista sono dei campi magnetici cioè i ragazzi qui presenti oggi che sono circa 300 si divideranno in dieci gruppi perché dico campi magnetici perché a coordinare questi gruppi c'è un docente universitario quindi almeno nell'accezione tradizionale quanto di più statico si può immaginare e poi c'è quella parola che avete sentito neologismo coniata da Ferrigni ha detto creativi c'è un creativo cioè ci sono dieci virgolette diciamo artisti ma per darvi l'idea ve li presento col 433 che oggi è uno schema abbastanza agevole di comprensione per i giovani e cioè i primi tre si occupano di pittura ma uno è un direttore di un museo di una cattedrale un'altra invece è una pittrice trasgressiva che associa oggetti e video ai suoi quadri il terzo è addirittura uno street artist poi c'è un trittico di fotografi una è una fotografa di scena l'altra è una fotografa documentarista quindi tutta out fuori non out out nel senso logistico del termine e un'altra è una ritrattista di volte quindi vedete sono tre focus tre obiettivi completamente diversi della loro macchina fotografica poi c'è un regista c'è un game designer perché questa università è fiera di avere la unica laurea in Italia in videogame perché quella è una frontiera lavoristica professionale che da sbocchi nel futuro quindi vi dicevo c'è un game designer e poi c'è un visual practitioner il visual practitioner è quello che traduce in schemi e in disegni un ambiente di lavoro lo reimmagina un ambiente di casa e addirittura un processo produttivo lo traduce in un design un'immagine e infine c'è uno scultore perché finisco con lo scultore dando la parola ai nostri due giovani che intanto chiedo di avvicinarsi al microfono che sono Francesco Macci del Manzoni e Nicole Ferrario del Lucrezio Caro di Roma perché dicevo lo scultore perché questo scultore è uno scultore un po' particolare ecco il senso del creativo voi sapete che la scultura è per definizione è volume peso e staticità questa è la scultura e lui cerca di rinnegare e destrutturare dall'interno nei suoi principi ispiratori la scultura e cioè di fare delle sculture che siano vuote leggere e mobili partendo dal principio che i giovani di oggi hanno una fisionomia che per certi aspetti risulta vuota leggera e mobile e quindi sono facilmente attraversabili attraversabili con lo sguardo vediamo se adesso ci potete raccontare come avete vissuto questi perché io li ho teorizzati io ho fatto il visual practitioner ho cercato in uno schema di far cambiare adesso vediamo se voi invece dalla testimonianza vostra ci raccontate come sono stati questi campi magnetici dell'anno scorso intanto il Prusso Scotti passando mi ha tolto la sedia per immaginare poi la scena ma i giornalisti sono sempre guardinghi perché non sono più i politici che devono guardarsi dai giornalisti ma i giornalisti si devono guardare dai politici non dare punti di riferimento si è rovesciato il mondo anche in questo buongiorno a tutti nella passata edizione del proteobrain ho avuto la fortuna di partecipare attivamente a questo progetto facendo parte del tavolo tematico di social network e privacy e ora a parte il mio personale a parte il mio personale arricchimento culturale e anche pratico di cui ho beneficiato lavorando a fianco dello scrittore Alessandro Curioni credo che fra le varie esperienze di alternanza scuola lavoro questa è stata sicuramente la più interessante e anche la più fruttuosa perché qui ho davvero imparato a lavorare in una squadra e ho anche capito qual è lo spirito giusto per raggiungere un obiettivo ho imparato ad ascoltare e a farmi ascoltare e insomma se le mie varie esperienze di alternanza scuola lavoro precedenti mi avevano deluso mi avevano quasi depresso perché perché non non è non avevano rispettato le prospettive sperate questa qui alla Link invece mi ha ridato entusiasmo ho sentito veramente che quello che stavamo facendo era qualcosa di utile utile soprattutto a voi adulti per capire noi credo che la Link Campus con questo progetto stia proprio cercando di avvicinare due linguaggi che spesso sembrano non avere radici comuni e per noi studenti questo laboratorio è una vera concreta opportunità di comunicazione e penso quindi di poter interpretare il sentimento di tanti tanti miei colleghi studenti ringraziando la Link Campus e tutti i ricercatori dell'osservatorio del proteo della generazione proteo per questo progetto grazie a tutti salve a tutti io sono Nicole l'anno scorso mi sono anche io ritrovata alla scorsa edizione di Proteo Brains dell'anno 2017 e ho partecipato al tavolo tematico Lifestyle abbiamo discusso su cosa fosse per noi uno stile di vita cosa fosse uno stile di vita positivo negativo in che modo migliorarlo e insomma ci siamo confrontati tra una ventina di ragazzi con tra di noi grazie anche ai nostri riferenti che erano una la professoressa Spalletta l'altra invece era la scrittrice Chiara Di Domenico che ho trovato due persone veramente fantastiche aperte disponibili gentili e ci hanno permesso di discutere e veramente esprimere la nostra opinione tutto questo mi ha portato poi a formulare quella domanda che prima il professor Ferrini mi ha riferito se noi veramente impariamo a chiedere le istituzioni insomma tutti questi organi che ci sembrano un po' un po' troppo grandi troppo importanti per noi perché insomma noi giovani non ci sentiamo più così tanto importanti secondo me e abbiamo perso un po' le speranze ma le stiamo riacquisendo verremo ascoltati noi forse io penso di sì penso che verremo ascoltati anche perché qua all'Alene Campus ho trovato un ambiente veramente aperto disponibile accogliente che mi ha fatto diciamo un po' tornare la speranza e per questo mi sento veramente molto grata e vorrei ringraziare tutta l'università grazie allora vediamo come questa speranza si può razionalizzare senza spegnerla dando la parola al direttore centrale dell'ISTAT per lo sviluppo della cultura statistica che è il dottor Giovanni Alfredo Barbieri statistica ma con un approccio molto praga io mi sono sempre andato a guardare quando modero una tavola rotonda ecco perché tendenzialmente rifiuto perché comporta uno studio a monte la biografia delle persone con cui siedo al tavolo lui parte molto da lontano prima di andare all'ISTAT dal centro studi di confindustria quindi il suo è un approccio che va sul mondo sperando che abbia mantenuto conservato nella macchina complessa nel carrozzone dell'ISTAT questo approccio invece agile easy veloce che è tipico di viale dell'astronomia della confindustria le vorrei chiedere le cose che lei ha ascoltato proprio perché lei ha il compito di diffondere la cultura statistica cioè un modo di guardare le cose un modo statistico di percepire le cose in che modo tutte le suggestioni creative che ho ascoltato stamani poi si possono inquadrare statisticamente grazie intanto forse posso dire come si vede anche dai capelli bianchi che la mia storia è ancora più vecchia di quella del centro studi confindustria in cui sono stato negli anni 80 e vi dico una cosa per in qualche modo tranquillizzarvi io mi sono laureato in giurisprudenza quindi sono uno di quelli che ha sbagliato facoltà perché mi sono reso conto abbastanza subito che non mi piaceva non dico che le cose che ho imparato all'università non mi siano servite mi sono laureato brillantemente poi la mia fortuna è stata che uno dei docenti di giurisprudenza mi ha segnalato il fatto che si teneva a Roma un corso post universitario che era aperto a queste discipline statistiche ed economiche matematiche da cui ero abbastanza attratto e che non aveva particolari preclusioni se non cercava già allora diciamo così una multidisciplinarità e quindi sono stato selezionato e questa cosa ha cambiato la mia vita non solo perché sono venuto a Roma ma anche per il fatto che appunto mi sono cominciato a occupare di economia applicata e poi di statistica prima come utente e poi come produttore la seconda cosa che vi vorrei dire è che l'istat non è un posto noioso lo pensavo anch'io prima di andarci probabilmente lo è stato per tanto tempo è stato una specie di ministero dei numeri l'istat adesso è sì un carrozzone sono duemila persone però è un istituto di ricerca e il prodotto di ricerca che l'istat fa da più anni è il suo rapporto annuale allora io approfitto del fatto che l'abbiamo presentato la settimana scorsa in Parlamento per tirare fuori dal rapporto annuale due o tre cose non avendo visto il libro bianco prima due o tre cose che mi sembravano fortemente in tema il tema del rapporto annuale di quest'anno sono le reti voi mi direte ma le reti che reti le reti sociali naturalmente e dice ma noi che cosa ce ne importa perché tra i risultati che sono emersi da questa nostra analisi oltre alla considerazione scontata che di fronte a una società in cui si fanno sempre meno figli e si vive sempre di più è una società che invecchia è una società che invecchia e anche una società in cui le reti soprattutto le reti di parentela che erano il tessuto connettivo fondamentale dell'Italia di quella del 1983 di Toto Cotugno si assottigliano e allora uno dice c'è un rischio di isolamento sociale la risposta che noi abbiamo trovato l'abbiamo trovata nei nostri dati e nelle nostre statistiche è che a fronte del fatto dell'assottigliarsi delle reti familiari quello che conta sono le reti elettive cioè le reti che uno si sceglie gli amici i compagni di scuola i colleghi gli ex colleghi di lavoro e che queste reti ci aiutano non soltanto a vivere meglio nei momenti di difficoltà perché intervengono come sostegno ma sono collegate a tutta una serie di effetti positivi alla partecipazione culturale anche alla partecipazione politica via via che progredisce l'età perché è vero che noi oggi qua abbiamo una prospettiva da giovani ma dato che penso che tutti voi vi auguriate di campare a lungo dovete sapere che le reti si assottigliano nel tempo che è quindi un valore conservarle e a questo punto ci siamo chiesti anche quali sono le caratteristiche che permettono di avere reti più ampie e quindi di campare meglio e abbiamo applicato un modello statistico per fare questo non entro nei dettagli ma vi do i due messaggi fondamentali la prima quella che conta di più è l'istruzione istruzione e conoscenza sono le chiavi non soltanto per avere un lavoro migliore eccetera ma anche per vivere meglio perché ti danno una rete di conoscenze la possibilità di ampliare le cerchie al di fuori di quella iniziale che durano poi per tutta la vita e la seconda abbastanza scontatamente è il lavoro che uno fa perché il luogo di lavoro anche se il lavoro cambia resta un'importantissima chiave di socializzazione quindi il primo messaggio che emerge dai nostri studi dal nostro rapporto è istruzione e conoscenza sono chiavi per una vita relazionale partecipativa intensa che vanno fondate nei primi anni di vita negli anni della formazione voi mi direte tutto questo è molto astratto che cosa ha a che fare questo poi con i problemi che incontreremo per esempio nella ricerca di lavoro ecco anche su questo è interessante perché è chiaro che il lavoro come dicevo prima costituisce un momento importante di socializzazione e c'è la convinzione fondata che il lavoro in Italia si trovi soprattutto attraverso le reti familiari e le reti delle conoscenze questo è vero in parte è vero perché il 90% di chi cerca lavoro questo risulta dalle nostre indagini lo cerca attraverso la rete dei familiari e delle conoscenze ma questo è appunto una fake news o quantomeno una notizia distorta perché nessuno che cerca seriamente lavoro lo cerca utilizzando una sola strategia la maggior parte delle persone utilizza 3, 4, 5 6 strategie e i risultati migliori li ottengono quelli che usano strategie complesse e in particolare che usano strategie che permettono di valorizzare le competenze raggiunte nel corso durante il percorso di studio c'è un dato che secondo me è importantissimo e clamoroso che è emerso con prepotenza negli ultimi anni dove l'università svolge un ruolo attivo nel segnalare le competenze migliori alle aziende al mondo del lavoro lì gli studenti trovano un lavoro più vicino alle cose che hanno studiato meglio retribuito e soprattutto dato che abbiamo anche questo giudizio trovano un lavoro più appagante ultimo flash che vi voglio dare è il famoso tema dei social network il 60% degli utenti regolari di internet di tutte le età si avvale di un social network però diversamente da quello che viene comunamente percepito tutte le fasce di età e tutte le tipologie di utenti trovano il contatto personale il contatto diviso più appagante del contatto virtuale quindi qual è la prima cosa che emerge la prima cosa che emerge è che il contatto virtuale è complementare e non sostitutivo rispetto al contatto di persona viene utilizzato oggi come 50 anni fa viene utilizzato il telefono per tenersi in contatto con persone con cui altrimenti non si trova in contatto c'è un'unica eccezione i ragazzi i ragazzi tra i 13 e i 19 anni trovano più appagante il contatto con gli amici via social network del contatto personale con i genitori ma questo ha poco a che fare con i social network ha molto a che fare con il ruolo formativo che la rete dei pari come dicono i sociologi che la rete dei pari svolge nello sviluppo della personalità ultimo flash vi suggerisco un libro e un articolo il libro si chiama It's Complicated uscito all'inizio dell'anno non è in inglese per fortuna solo il titolo è in inglese il sottotitolo è la vita sociale degli adolescenti sul web è una lettura che suggerisco a tutti è fatto naturalmente negli Stati Uniti ma rivela molte cose che sono valide anche per l'Italia il secondo è un articolo che in realtà è uscito stamattina su Quartz che è il quotidiano di The Atlantic che è una rivista nordamericana in cui viene smontato il mito della addiction da tecnologia studi molto seri dicono che è vero che i social network danno un aumento dei livelli di dopamina come tutte le attività piacevoli ma non è distinguibile da altre attività piacevoli come una cena con amici o andare al cinema ed è molto distante dall'esplosione di dopamina che provocano le sostanze psicotope se posso chiudere con una battuta se volete sballarvi non fatelo con Whatsapp grazie 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 carruzzone ha un'accezione nostalgica virtuosa positiva ho cominciato citando Fedez e Jay Ax ma io sono uno che è cresciuto nei teatri tenda cantando il carrozzone con tristezza quando dice a suo figlio il carrozzone mi dice cos'è è nato zero punto per lui zero perché le generazioni cambiano velocemente quindi per me il carrozzone ha un'accezione positiva passando al clero Monsignor Andrea Lonardo è da gennaio il direttore dell'ufficio università della diocesi di Roma lui è nato e cresciuto anche se poi ha fatto il parroco ad Acilia a Santa Melania lui è nato e cresciuto in questo quartiere io ho avuto l'onore di essere amico di sua paia che è stato un grande giudice un grande magistrato se posso senza toccare troppo il personale anche un grande cristiano che poi nella malattia ha vissuto con estrema e grande dignità io ne ho ricordo vivissimo il suo calvario è nato qui a piazza più undicesima è cresciuto qui vicino quindi quando la linka ancora non c'era ma in qualche modo è come tornare nel suo quartiere di origine ha girato molto ha studiato a Gerusalemme all'Ecole Biblic oltre che qui a Roma all'Istituto Biblico e soprattutto ha scritto tantissimo è un esperto d'arte e qui Vanna Fadina che ama gli street la nostra presidente della società di gestione anima di proteo che ama molto gli artisti trasgressivi pensa adesso come ci mettiamo con lo street art e qua abbiamo il Monsignore che invece sicuramente avrà studiato il Beato Angelico non ha studiato il Beato Angelico ha scritto molto ha scritto molto su un artista di chiaroscuri è un esperto di Caravaggio è un esperto di Caravaggio e il Papa all'inizio del suo pontificato siamo in Brasile a luglio del 2013 fa un discorso strategico ispiratore tutti e cinque gli anni del pontificato dove esce alla prospettiva e dice non capiremo i giovani di più non capiremo il mondo contemporaneo se non usciamo da Gerusalemme a Gerusalemme c'è troppa luce chi di voi si è mai svegliato la mattina a Gerusalemme vanno aperte le finestre le tende poco per volta perché accecante la luce che rimbalza su questa città dorata lui ci dobbiamo uscire da Gerusalemme e accompagnare la gente nei suoi chiaroscuri è il famoso discorso del passaggio dal riflettore alla candela dobbiamo accompagnare la gente nei suoi percorsi di chiaroscuri perché senza i chiaroscuri non capiamo il mondo contemporaneo questo si chiama bianco ma come ci ha detto Nicola Ferrigni dentro quando lo sfogli è un libro di chiaroscuri io vorrei che questo libro diventasse un contributo della città di Roma e della diocesi di Roma al sinodo a proposito di cammino sui giovani che la chiesa che il papa ha convocato in ottobre partendo da una missione con estrema franchezza come ci ha abituato Bergoglio che la chiesa in questo momento di giovani capisce poco parte da questo punto di vista con molta umiltà e vorrei che questo libro bianco che oggi la venisse consegnato diventasse il contributo di questa università romana al pastore al bescovo di questa diocesi che è anche il pastore della chiesa universale Monsignor Leonardo ci parli pure di Caravaggio a sto punto Caravaggio lo andiamo a vedere mi provocate io parto oltre a ringraziare questa istituzione di cui sono onorato di essere oggi ospite partendo proprio da Fedez dato che voi andate su questo c'è una videoclip una canzone molto interessante che si chiama Generazione Bo dove la generazione Bo non sono i giovani ma sono gli adulti se voi guardate il video secondo me è perfettamente aderente a quello che io non ho letto il libro ho letto solo la parte sintetica che mi è stata inviata ci sono degli adulti e degli anziani che non hanno una sola cosa importante nella vita e c'è una ragazza simile alla pakistana che è stata costretta a abortire che invece è un bambino lo si capisce solo alla fine attraversa questo mondo di goduriosi inutili cioè di gente che si butta nella piscina che non c'è niente da fare da mattina alla sera e lei alla fine attraversa questa gente e ha portato il suo bambino a me colpisce questa cosa perché io credo che poi dirò delle parole su questo emerga da questa cosa che in qualche modo la generazione proteo potrebbe essere più quella degli adulti che quella dei giovani c'è una generazione a cui loro chiedono appunto ma se noi vi chiediamo vale la pena vivere vale la pena sposarsi vale la pena fare un bambino vale la pena essere onesti non mi parlare delle eccezioni parlami di ciò che è il cuore della vita tu sei felice di aver fatto un figlio oppure non sei sicuro se è una cosa buona sapete che proteo fra l'altro questo è molto interessante proteo nella mitologia mi piacciono queste cose chiaramente vengono studi classici anche io dal liceo eccetera sapete che proteo è una persona inafferrabile ma se tu lo afferri a mezzogiorno mentre dorme è l'unico che ti risponde cioè proteo è la persona multiforme ma in realtà proteo è la persona che nella metodologia sa le cose la domanda che poneva la giovane che ha parlato ma se noi vi chiediamo Nicole ma voi ci rispondete poi dopo cioè noi è chiaro che dobbiamo fare una fatica a chiarirci ma una volta che noi vi chiediamo vale la pena che continua a esistere l'umanità e che noi diventiamo padri o non vale la pena voi ci dite boh o ci dite sì vale la pena o ci dite no non vale la pena lasciate perdere possiamo confrontarci con qualcuno che ha un'ossatura Papa Francesco a cui credo si possa provare a consegnarlo tramite canali che anche voi conoscete meglio di me è una persona che è amata perché ha carattere perché ha una chiarezza una forza non è una persona che dice fate quello che volete tanto non mi interessa cioè dice guardate che le cose che si fanno sono importanti e faccio subito un esempio io amo appunto occuparmi già da prima di questo incarico io per esempio una delle cose che ritengo più inutili oggi sia la citazione di un proverbio che spesso cita in ambito scolastico se dai un pesce ad una persona lo sfami per un giorno se gli insegni a pescare lo sfami per tutta la vita e tutta la nostra pedagogia dal liceo è basata sulla metodologia cioè a partire da questo processo si dice la cosa importante è imparare la metodologia moren non è importante avere delle idee ma è importante che il cervello sappia oppure Bauman tutto il liquido e io rispondo a questo proverbio dell'estremo oriente a me non piace il pesce se voi mi insegnate a pescare io non pescherò lo stesso io credo che il problema emerge mi dà il gusto di una cosa per cui il metodo me lo trovo io c'è un metodo della ricerca scientifica e se io non uso il metodo sono un incompetente ma io il metodo ce lo diceva adesso il nostro statistico io prima voglio capire cosa mi piace se niente è a gusto il metodo è noioso è inutile una scuola che punti sul metodo filologico per insegnare Omero e non mi dica perché Omero è grande io Omero non mi appassionerò non lo studierò e allora ecco che io rileggo in questa maniera alcune cose che voi avete detto voi avete detto per esempio che non è importante solo l'onestà in politica l'importante è la competenza questo per me è straordinario cioè perché l'essere onesti ma non sapere cosa dire della politica dove portare l'Italia che idea di Roma dobbiamo avere perché è chiaro che è importante essere onesti è chiaro che nessuno di voi dirà mai che l'onestà è un disvalore ma il problema della politica è dove vogliamo andare avete detto che l'Europa non è una questione economica ma è una questione di un'idea io scherzando dico sempre che l'Europa si vede da due cose una siete voi l'Europa si vede dalla carbonara se noi avessimo delle altre radici culturali o religiose non avremmo la carbonara la carbonara è un tipico prodotto del classicismo e del cristianesimo perché la laicità e fede cristiana sono due nemici amici sono due fratelli che sempre si litigano perché in fondo sono la stessa cosa vista da due parti diverse l'altra cosa è l'università l'università è un tipica invenzione del paganesimo del cristianesimo e dell'Europa che è l'unico vero fattore di progresso di integrazione vera dove si studia c'è integrazione dove non si accede al sapere non ci si integra dove non ci si confronta sulla libertà critica della ricerca non è un'integrazione quella che abbassa il livello ma avete detto che il lavoro non è puro denaro questa è una cosa di un interesse mostruoso cioè si lavora perché vale la pena fare qualcosa addirittura c'è una mia amica professoressa che dice io mi arrabbio quando dicono si lavora bisogna trovare per guadagnare allora vuol dire che se tu sei ricco allora non lavori più no si lavora perché lavorare è esprimere se stessi il lavoro fa parte dell'identità dell'umano una persona che non lavora per gli altri non ha niente da dire al mondo un pensionato è triste perché non c'è niente da fare perché è inutile è ritornata la parola inutile non voler essere inutile l'ultimo esempio che io faccio è ne parlavo prima con la preside con la direttrice voi chiedete non gli esperti io credo che il fallimento della lotta contro il bullismo sia l'invitare l'esperto perché l'esperto è squalificare il docente che c'è cioè voi chiedete non che ci siano dei corsi ma voi chiedete che le persone normali se voi gli dite qui c'è un problema lo risolvono loro il puntare continuamente su una figura accessoria e secondaria vuol dire depotenziare il dirigente il docente il papà la mamma il compagno e così via la chiesa l'università l'alincampus il sindaco di roma e così via questi elementi sono molto interessanti io concludo in questa maniera io credo che in questa differenza io credo che questa ricerca dica io non sono convinto per le mie ricerche che i giovani sono differenti dalla differenza cioè noi abbiamo vissuto un periodo forse volete identitario forse abbiamo vissuto un periodo differente dove sembrava che l'unica cosa interessante fosse rompere gli schemi nel senso rompere qualsiasi idea oggi credo che i giovani dicono basta con la differenza diteci non so poi mi dite voi se è vero noi parliamo insomma cioè non vogliamo essere identificati con la ricerca del particolare a tutti i costi ci dite che cosa vale veramente per cosa si può vivere vale la pena studiare vale la pena fare l'università vale la pena diventare persone colte la cultura è un valore e così via mi sembra che sia veramente una generazione che spiazza se uno l'ascolta una lettura superficiale che dice sono solo proteiformi lo dico in senso non sono solo proteiformi ma hanno una richiesta chiara di qualcosa che sia durevole che non sia effimero che non sia che non duri un giorno e poi domani si cambia di nuovo e si ricomincia da capo non era itemista est perché prima di andare ai lavori lui ha detto che sono due facce il mondo laico e il Vangelo adesso tocca al colle del Campidoglio l'avvocato Angelo Sturni è il consigliere comunale ma il presidente rappresenta il Campidoglio è il presidente della commissione per Roma Capitale adesso il dottor Barbieri ci ha detto che ha scoperto che è stato un errore laurearsi in legge speriamo che non sia così anche perché sarebbe di cattivo auspicio il momento in cui ha salito al Quirinale ieri uno che invece insegna diritto e che fa l'avvocato l'avvocato Sturni quindi sarà il difensore di Roma Capitale come presidente del consiglio è difensore dell'Italia quello che dico con certezza è che questo è un libro il primo in Italia che cerca di gettare un ponte tra i giovani delle superiori e i giovani dell'università e quindi questo è un libro che oggi fa Roma un po' più capitale prima di tutto grazie per la possibilità insomma anche di intervenire grazie all'Incampus per questo presidente della commissione Roma Capitale delle riforme istituzionali è una commissione capitolina che fa parte dell'assemblea capitolina e si occupa delle riforme istituzionali e da ieri tra l'altro abbiamo cambiato il regolamento del consiglio comunale tra 15 giorni si occuperà anche di innovazione tecnologica smart city il personale insomma tutto il tema della pubblica amministrazione digitale ora ringrazio per il prodotto e soprattutto il buon Nicola perché lo prenderò e lo cercherò di diffondere anche tra i colleghi consiglieri e gli altri presidenti perché credo soprattutto parlando di metodo che il metodo di raccolta diciamo di questi contributi che parte effettivamente poi dal basso mi pare di capire insomma che sia stato un po' questo il metodo cioè raccogliere dal basso i contributi per capire poi effettivamente quali possono essere le decisioni allora io faccio un ragionamento su questo breve conoscere per decidere la politica dovrebbe essere così quindi prima si studia prima si conosce e poi si possono assumere delle decisioni che poi hanno un impatto sulla collettività ma qui siamo andati oltre secondo me e anche a Roma siamo andati oltre perché nel 2018 l'Assemblea Capitolina ha deliberato la revisione dello statuto di Roma Capitale di cui devo dire sono stato il primo presentatore il primo firmatario della proposta di delibera con la quale sono stati introdotti all'interno del nuovo statuto della Capitale che per chi non lo conoscete insomma parliamo della Costituzione insomma della città degli strumenti di partecipazione popolare importanti perché sono importanti questi strumenti rispetto alle decisioni pubbliche perché proprio come è stato detto se noi continuiamo a pensare che la politica possa essere una modalità soltanto legata alla democrazia rappresentativa ci perdiamo tutto quello che è effettivamente la realtà ci perdiamo tutti i contributi e tutti gli elementi che possono arrivare dal basso allora ci sono vari modelli su questo da una parte è sempre stato pensato ad esempio alla democrazia diretta e al concetto di referendum legato soltanto alla decisione quando invece poi vediamo che in Svizzera c'è una fase importante precedente alla decisione che è il nocciolo vero che è quello della conoscenza dell'informazione cioè dell'accesso a quel contenuto che garantisce alla cittadinanza la popolazione ai giovani di poter poi effettivamente decidere e prendere poi una decisione che è quella che riguarda le scelte più importanti della nostra vita che riguarda la mobilità che può riguardare l'ambiente che può riguardare le trasformazioni del territorio che può riguardare la rete e il modo con cui noi ci rapportiamo agli altri quindi questo effettivamente è un contributo importante anche nel metodo io credo che ci sia un grande parallelismo su questo l'altro tema è il tema di aver acquisito delle informazioni e quindi di aver diciamo prodotto questo documento anche qui esiste e l'abbiamo introdotto anche attraverso il concetto del bilancio partecipativo all'interno dello Statuto di Roma Capitale anche digitale quegli strumenti che sono chiamati di democrazia partecipata o in altri casi di democrazia deliberativa dove invece viene la decisione politica finale avviene sempre tra un confronto attraverso un confronto e tra l'acquisizione di informazioni che possono di osservazioni che possono arrivare dalla cittadinanza per poter decidere effettivamente dove apporre i propri i soldi che poi di fatto sono di tutti i cittadini romani ecco in questo senso io credo che le università proprio su questo punto noi abbiamo dopo lo Statuto dato le linee guida per la redazione del nuovo regolamento e c'è un punto all'interno di questa mozione che parla proprio della cultura della partecipazione proprio del primo punto cioè quello di coinvolgere le università e coinvolgere tutti gli istituti proprio per trasmettere a chi effettivamente accede poi al mondo della comunità pubblica quelli che sono gli strumenti che può utilizzare dal giorno dopo appena ovviamente raggiunge il diciottesimo d'anno d'età o in alcuni casi il sedicesimo anno d'età questo è il contributo che ritengo sia importante poter dare e credo che il lavoro che sia stato fatto deve essere assolutamente portato all'attenzione delle istituzioni mi farò io stesso portavoce insomma di portarlo anche all'aggiunta per poter essere studiato e esaminato da questo punto di vista tutti gli assessori e i presidenti e i presidenti delle commissioni capitoline competenti ringrazio grazie insieme al Campidoglio io ringrazio il municipio Roma è fatta di decentramento e Serena Maria Candigliota che è l'assessore sociale ringrazio della sua presenza qui e poi prima di dare per le conclusioni la parola al presidente Scotti che aprirà i lavori voglio ringraziare il direttore generale di questa università l'ingegnere Pasquale Russo è la presidente della società di gestione Vanna Fadini che se avete visto Nicola Ferrigni è il cervello insieme a Marika Spalletta di questo rapporto al libro bianco loro sono l'anima che lo hanno con passione e spinto e sostenuto che ringrazio e poi però noi faccio il giornalista e niente ci può passare inosservato così però ma è dovuto e prima di dare la parola al professor Scotti io incrocio le dita e faccio gli auguri e poi una che sta in università e che se una che si chiama Trenta e che sta all'università nome nome cioè che volete nella vita che facesse però siccome stamattina i giornali dicono che farà anche qualcos'altro noi gli facciamo l'augurio per quella lode ma se quella lode poi nel gioco lì è in pallottoliere però la foto è su tutti i giornali quindi non può passare inosservata se non va a Palazzo Baracchini qui nel baraccone della Link rimane tanto volentieri e noi siamo contenti da averla tra noi siamo alla conclusione del primo round quindi non è finito il lavoro in questo giorno così come ci è stato articolato e come distribuito in questo io ringrazio ancora una volta tutti quelli che sono presenti qui oggi vorrei dire che non siamo un baraccone siamo ho detto che a Rossoni a vista dovevo compensare perché se no perché la terapia è metafora con terapia la sommanza è un baraccio baracchini ma no io sono io mi sento un baracchone non ho nessuna così non era una reazione negativa Piero era una reazione di dire il barcone è una cosa complessa articolata ricca non è uniforme noi non abbiamo un colore solo siamo una realtà multicolore cioè guardate quando perdete l'arcobaleno vero con una nostra capacità di battito di discorso di contrapposizioni è la ricchezza perché se no qui siamo finiti ad avere come oggi sui giornali qualcuno che scrive quello ha un'opinione diversa no non può fare questa cosa ma chi te l'ha detto in questa direzione qui noi ci ribelliamo a questo modo di così di imprimere un colore e basta cioè noi siamo la ricchezza di questo questa università ha questa grande ricchezza e la partecipazione è possibile se c'è ricchezza e se c'è rispetto e se c'è capacità di coinvolgimento non è qualcosa che si cala dall'alto io ringrazio tutti di aver sottolineato questo dato fondamentale di un'università che nasce noi vorremmo sempre più i nostri studenti attivi insegnargli un metodo non è è una cosa diversa nella discorso no no è una cosa essenziale di dargli la capacità il metodo è anche rispetto ed anche capacità di ascolto tutto quello che è essenziale fare oggi nel nostro paese credo che possiamo uscire come il sole che è fuori cioè pieni di speranza io non sono mai stato un pessimista i miei amici lo sanno perché ho sempre guardato con attenzione a quello che andava emergendo nella società italiana nella realtà italiana nella scuola italiana l'unica cosa che vorremmo che che qui fosse vero il tentativo di rompere tutte le impalcature burocratiche che soffocano la creatività di questo paese credo che questo sia un punto forte di battaglia io spero che la sua presenza qui nella diocesi di Roma al servizio di una parte importante della comunità ecclesiale e non ecclesiale di Roma aiuti in questo in questa direzione nel nel riaprire un forte dibattito tra tutti lei ha detto giustamente credenti e non credenti e credenti sono sono due fasce di una medaglia che è la cultura greco latina giudaica cristiana di questa nostra grande civiltà allora noi interrompiamo adesso grazie ancora domani oggi pomeriggio vi attende un grande lavoro buon lavoro a tutti grazie 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 Grazie.